Oggi andiamo a vedere la seconda parte della lezione conferenza intitolata Svegliati o dormiente. Eravamo arrivati al punto dove David ci racconta del suo amico Benny che ha ricevuto la nascita dall'alto e quindi qui ci dice che nel mio caso è successo nel 1959, quasi dieci anni fa e ancora ogni momento del tempo mi soffermo su di essa. Non potevo credere che questa cosa fosse così letteralmente vera. La promessa di Dio all'uomo, cioè che ogni bambino nato da una donna un giorno avrebbe effettivamente scoperto di essere il Signore Gesù Cristo e quando succede a te l'intera cosa comincia a dispiegarsi dentro di te come un fiore. Beh, non posso dire a nessuno l'emozione. Non ti vanti. Non è una cosa di cui vantarsi perché tutto era contenuto nel germe, nel seme, nello sperma di Dio ed è stato posto in te. Ebbene, se tutto Dio è contenuto nel suo seme e il seme è in noi, quindi si dispiega. Come possiamo vantarci? Non possiamo che essere elettrizzati oltre misura ed essere pieni di timore reverenziale, lode e ringraziamento per il fatto che Dio ci ha tanto amati da diventare veramente noi, di modo che a nostra volta possiamo diventare Lui e quindi ci soffermiamo su questo e lasciamo che accada. Si dispiega come un fiore. Quindi, a tutti, non importa cosa siete stasera, potete iniziare stasera a piantare il mondo diversamente ma soffermatevi soprattutto sul fatto che siete figli di Dio e come figli di Dio potete solo crescere nella somiglianza con Dio, in Dio stesso. Non avete altra strada da percorrere, ma siamo avvertiti nella scrittura. Sarà un bel viaggio. Paolo disse Io considero le sofferenze del tempo presente non degne di paragonare con la gloria che sta per essere rivelata in noi. Non per noi. La predisposizione è proprio in, è rivelata in noi. E come il figlio di Dio puoi solo crescere nella somiglianza di Dio, in Dio stesso. Le sofferenze ci vengono dette abbastanza chiaramente nel libro della Genesi. Abbiamo tre grandi manoscritti nella Genesi conosciuti solo per la lettera, la lettera J, la lettera E e la lettera P. Nessuno sa cosa significhino, ma noi abbiamo dato loro un significato. Parliamo della J come Jehovah Hitt, i libri di Jehovah. Parliamo della E come Elohim e parliamo della P come i profeti. Ma nessuno sa veramente se chi ha messo la J, la E e la P intendesse davvero questo. E comunque gli studiosi hanno dato questo significato a queste letture. Questo è tutto ciò che sappiamo riguardo alla paternità di questi manoscritti. La E non inizia con il primo verso. Il manoscritto E inizia con il quindicesimo capitolo. Inizia con la civiltà, con Abramo, che si lamenta con il Signore di non avere prole. E uno nato in casa mia da uno schiavo sarà il mio erede. E Dio gli disse, quell'uomo non sarà il tuo erede, ma il proprio figlio sarà il tuo erede. E poi Dio fece scendere su di sé un sonno profondo e gli disse, nel sonno i tuoi discendenti saranno stranieri in una terra straniera e lì rimarranno schiavi per quattrocento anni, ma quando ne usciranno avranno molto. L'abbondanza sarà loro, ma devono andare prima in schiavitù per quattrocento anni. Bene, i quattrocento anni non sono veramente quattrocento come misurereste gli anni. Ogni lettera nell'alfabeto ebraico ha non solo un valore numerico, ma un valore simbolico. E quattrocento è l'ultima lettera, la ventiduesima, il cui simbolo è una croce. È il tau, è il valore numerico della croce e quattrocento. Quindi indosserò la croce dell'uomo. Questa è la croce che indosso. Sono quattrocento anni, ma è un tempo molto, molto più lungo di quello. Blake più e più volte ha detto, vedo le visioni del mio sonno normale, di sei mila anni, abbaglianti intorno alle tue vesti come un serpente di pietre preziose ed oro. So che sono io, oh Signore mio Redentore e Creatore. Così parla sempre delle visioni del suo sonno mortale che durò sei mila anni, ma nella scrittura è detto quattrocento anni perché si parla del simbolismo del numero e del simbolo chiamato croce. Quindi finché indosso un corpo di carne e sangue, indosso questa croce di quattrocento anni. Dunque, finché lo faccio sono schiavo. Sono schiavo di questo corpo, delle sue passioni, delle sue ambizioni, delle sue esigenze. Devo lavarlo, raderlo, nutrirlo e poi ha tutte le normali funzioni. Devo prendermi cura delle sue normali funzioni come se fosse uno schiavo. Sono schiavo del corpo. Verrà il giorno alla fine del mio lungo viaggio in cui toglierò il corpo di carne e sangue e mi rivestirò del mio corpo di gloria, che non avrà bisogno di nessuna di queste cure, perché sarà puro spirito e non carne e sangue. Quindi sono abbastanza disposto ad accettare ciò che la scrittura mi insegna. Sì, sono uno schiavo qui, lo so, e io continuerò. Ma mentre sono schiavo, egli si è risvegliato in me, si è risvegliato completamente in me, con tutto il simbolismo della scrittura che mi circondava. E poi tutta la scrittura comincia a svolgersi dentro l'uomo che è ancora schiavo. Poi arriva la fine del viaggio, quando può dire è finito, tutto è compiuto. Perché qui non solo questi potenti atti diventano tuoi, ma tanto bei passaggi delle scritture in questo intervallo sono tuoi. sentirti un giorno innalzato e ascoltare un coro celestiale, un coro ultraterreno, ed eccolo cantare, chiamandoti per nome. Quando ho scritto questa storia e l'ho chiamata alla ricerca, sono stato persuaso da colui che ha letto il mio manoscritto di usare il pronome lui in terza persona, ma non ho sentito il coro dire lui, ho sentito il coro chiamare il mio nome, Neville. E loro dissero, Neville è risorto, Neville è risorto. E come puoi prendere questa semplice piccola frase, Neville è risorto, e ripeterla e tirare fuori quello che hanno fatto? Non te la puoi mai dire, loro non hanno mai usato altre parole, eppure la melodia, la maestà di tutto ciò, stanno cantando e solo su tre paroline. E poi mi sono ritrovato vestito di un corpo di luce, sembrava un corpo d'aria e di luce. Non stavo a terra e non camminavo, volavo, e lo facevo automaticamente come se fosse un'abilità innata. E mi sono imbattuto in un mare infinito di umana imperfezione, cecchi, zoppi, paralitici, avvizziti. E io lo sapevo intuitivamente che mi stavano aspettando. E quando sono arrivato non ho avuto compassione, nessuna, di alcun tipo. Non mi sono fermato a indagare, era ovvio. Che era un cieco, uno era zopo, uno non aveva braccia, a uno mancava qualche altro arto, eppure stranamente, mentre io ci passavo in mezzo, non ho alzato un dito per cambiarli, ma sono stati automaticamente cambiati in armonia con la perfezione che sentivo nascere dentro di me, perché ho camminato come il perfetto. Tutti dovevano essere in armonia con me, e tutti erano resi perfetti. E il loro coro cantava. E quando gli occhi sono usciti dal nulla e si sono inseriti in queste orbite vuote, e quando le braccia sono uscite dal nulla e si sono inserite nelle cavità vuote e le gambe, tutto è stato reso perfetto alla fine di questo enorme viaggio. Il coro esulta e grida. E' fatto da ripetere. Neville è risorto. Neville è risorto. Nel loro mondo meraviglioso, ora cantano. E' fatto. E poi mi sono sentito davvero condensare in questo piccolo indumento qui chiamato Neville. In realtà ero l'essere più imprigionato che si possa immaginare da quello meraviglioso stato esaltato di libertà. Quindi non posso dire a nessuno cosa c'è in servo per te. Io l'ho semplicemente provato quel momento. Stavo attraversando il mare dei Caraibi da Port of Spain a Mobile, Alabama. Siamo stati in mare circa sette giorni e questo è successo una notte mentre ero in viaggio. Quindi conosco esattamente la sensazione del corpo risorto. Quella sensazione di corpo glorioso dove tutto ciò che tocchi o vedi deve conformarsi a te perché sei perfetto. Sii perfetto come perfetto è vostro padre che è nei cieli. E così tutto nel tuo mondo cambierà. Non ti fermi a cambiarlo. Non fai niente. Cambia semplicemente mentre passi. Quindi tutto ciò che c'è nelle scritture tu un giorno lo proverai letteralmente. Dimostrerai che è vero. Ma non su questo livello. lo dimostrerai in qualche zona remota della tua stessa anima. Quindi prima di tutto credi nella sua promessa. Credi di essere veramente il figlio di Dio e come figlio di Dio non puoi crescere fino a qualcosa di diverso da Dio. Non nell'eternità. Ma mentre sei schiavo in questo mondo in un posto che in realtà non è casa qui tutti si sentono estranei cercano di costruire qualcosa per sentirsi al sicuro ma sono ancora estranei e per tutto il giorno e la notte loro se ne vanno si ritirano e se ne vanno da questa sfera lasciandoti indietro. Allora devi partire e lasciare gli altri indietro. Tutto questo è un mondo strano non è casa. Così noi siamo stranieri in terra straniera schiavi in terra straniera. Perciò mentre siamo qui ricordate la sua legge la legge del raccolto identico che non si può ingannare Dio quindi non ingannatevi Dio non è schernito Qualunque cosa l'uomo semina così metterà e poiché raccoglierai non stancarti non stancarti di fare il bene fallo ogni momento di tempo anche se non vedi il raccolto immediato fallo lo stesso perché non puoi non raccogliere col raccolto allora fallo trascorri un piccolo momento ogni giorno e pianta deliberatamente pensieri amorevoli Semi amorevoli Porta davanti alla tua mente quelli che conosci come amici rappresentali a te senza che lo sappiano senza il loro consenso in qualche modo amabile quando si conformano a quello nel mondo esterno non hai bisogno di lodi non c'è bisogno di dire loro questo è quello che ho immaginato per te tu lo sai hai la soddisfazione di sapere quello che hai fatto quindi si conformeranno a esso e tu li vedrai e li raccoglierai e avrai la soddisfazione senza farli sentire obbligati se dici loro cosa hai fatto si sentiranno quasi obbligati a fare qualcosa per te a loro volta non vuoi niente in cambio lo fai semplicemente perché ti diverte a farlo e man mano che lo fai diventa sempre più un'abitudine e ogni momento della tua vita cosciente lo farai invece di sprecare il tuo tempo con tutte le cose spiacevoli e negative le ignori e lo fai deliberatamente nelle cose amorevoli e quando leggi il Salmo 40 nel volume del libro iscritto di me credici è tutto a proposito di te l'uomo non lo sa ma l'intero libro parla dell'individuo quella è la tua biografia è tutto su di me e su di te poi quando lo leggerai e realizzerai che si svolge in te lo urlerai dai tetti delle case e lo racconterai a tutti senza vantarti perché si tratta anche di loro tutti possono parlare in prima persona tempo presente riguarda me e te e poi un giorno lo sperimenterai e saprai che è davvero tutto su di te e il libro era semplicemente una prefigurazione l'intera cosa era un progetto un progetto profettico della tua vita e tu entri nel mondo della morte in quel mondo della schiavitù così quando Blake nella sua più grande di tutte le poesie disse la poesia non è mia gli autori sono in paradiso sono nell'eternità sono solo il loro segretario è stato dettato mi sono arrivate dodici venti e trenta righe alla volta e ciò chi avrebbe dovuto richiedere una vita di lavoro arriva in un batter d'occhio questa è la sua grande poesia Gerusalemme prima di tutto Blake inizia dichiarando il tema ci racconta del sonno di urlo e del passaggio attraverso la morte eterna e del risveglio alla vita eterna poi dice io in loro e loro in me tutto in uno eccolo il sonno di urlo cos'è il sonno di urlo? noi passiamo attraverso la morte eterna Blake fa questa affermazione e ci risvegliamo all'eterna vita e abbastanza disposto ad ammettere che sarà un passaggio difficile ma perché siamo il seme di Dio non possiamo fallire e un giorno esploderai ed è Dio che eruta tutto in te e tu sei Lui se ti soffermi su di esso ti dico per esperienza personale cosa ti succederà non sarai arrogante ma non incontrerai una persona in questo mondo a cui ti inginocchierai ti rifiuterai di accettare qualsiasi essere in questo mondo come un aristocratico per la semplice discendenza della carne no l'unica aristocrazia che ammetterai è l'aristocrazia dello spirito nessuna linea di sangue perché tu non sei la carne ma tu sei spirito tu sei figlio di Dio e Dio è spirito questa è l'unica aristocrazia che ammetterai e verrà il giorno che lo dimostrerai a te stesso ed entrerai in una sfera celeste stranamente per mia esperienza quando sarai in questa sfera consapevolmente conoscerai tutti li conoscerai più intimamente di quanto conosci qualcuno qui sulla terra quando incontri la fratellanza li conosci più intimamente di quanto tu conosca chiunque qui conoscevo mia madre mio padre i miei fratelli i miei amici mia moglie i miei figli eppure non conosco nessuno di loro così intimamente come conosco i miei fratelli nell'eternità e sono tutti esseri eterni quindi quando mi toglierò questo indumento per l'ultima volta indosserò un corpo eterno di luce che per un fugace momento mi è stato permesso di indossare assaporai quella gioia quella notte del 46 passando per i Caraibi quindi lo so esattamente cosa mi aspetta quando diranno Neville è morto lungi dalla morte sarò rivestito del mio corpo glorioso sì la piccola veste sarà morta e la cremeranno la ridurranno in polvere quel che fanno con esso davvero non mi interessa spero solo che mia moglie sia abbastanza saggia da non permettere agli impresari di pompe funebre di Carly Carla di ogni sorta di sciocchezze tenendo in vita una piccola urna e pagando l'affitto le ho detto divertiti un po' la legge richiede che tu la metta in una scatola bene prendi la scatola più economica del mondo qualsiasi scatola si rovinerà comunque prendi la scatolina più economica e bruciala non pagare l'affitto per delle cenere se non ti permettono di smaltirla qui beh allora trova qualche scusa e di che devo stare nell'isola di Barbados e quando sarai lì getta tutto in mare ma non fare una piccola icona non farne un posto dove puoi andare a dire questo è Neville perché io non sono affatto lì sono rivestito del mio corpo glorioso un corpo che è eterno immortale e so cosa si prova a indossarlo non posso descrivere a nessuno l'esaltazione che si prova senti un potere infinito eppure sei un uomo tu sei un uomo e qui tutto si trasforma in bellezza mentre passi e non hai bisogno di luce non hai bisogno di sole neanche di luna non hai bisogno di stelle perché sei luce per te stesso non una luce accecante ma una luce radiosa abbastanza per illuminare tutto ciò che vuoi in questo mondo mentre passi non c'è bisogno del sole non c'è bisogno delle stelle non c'è bisogno della luna non c'è bisogno di alcuna luce esterna sei tu la luce del mondo questo lo so per esperienza personale quindi questa sera quando dico svegliati o dormiente e risorgi dai morti sto facendo appello per farti diventare sempre più consapevole di ciò che stai immaginando poiché man mano che diventi sempre di più consapevole di ciò che stai immaginando ti stai risvegliando e così diventi consapevole di ogni momento del tempo e ti rifiuti quindi di permettere alla tua immaginazione di intrattenere cose spiacevoli e ti concentri semplicemente sulle cose adorabili e nel momento in cui lo fai pianti il seme e allora hai fiducia nella legge ininterrotta di Dio che deve germogliare affinché tu possa raccogliere a tempo debito crescerà e a tempo debito lo raccoglierai è una legge stabilita nel primissimo capitolo leggilo nell'undicesimo versetto è affermata così chiaramente e così perfettamente che nessun uomo può eluderla e poi viene registrato nell'ultimo versetto del capitolo 8 finché la terra dura seme e raccolto non cesseranno mai ogni volta che immagini qualcosa è il momento della semina e il raccolto deve seguire non può procedere così hai il tempo della semina e del raccolto stabiliti per sempre finché la terra durerà e tu sei quello di cui si parla nell'ottavo capitolo io a te che intera faccenda è indirizzata perché l'intera faccenda riguarda te ora entriamo nel silenzio io mi fermo qui e domani vediamo le domande e le risposte di questa meravigliosa lezione a domani ciao grazie grazie a tutti